In certezza su Limo, il governo ha proposto di slittare il gettito di giugno e quindi per i comuni iniziano le difficoltà. A Montevarchi ancora non si è discusso il bilancio, l'ultima data possibile è il 30 giugno, voci e senza altro speranze sono quelle di slittare ancora una volta a settembre l'approvazione del bilancio, ma la situazione è abbastanza difficile. La situazione è sicuramente molto difficile e molto critica perché siamo in un anno in cui dal punto di vista delle entrate tributarie del Comune è un anno di grande rivoluzione, abbiamo parlato di questa nuova tassa sui rifiuti della Tares, adesso invece facciamo i conti con una possibile sospensione della rata del Limo, quindi in una situazione come questa noi non siamo in grado di sapere quali sono le entrate del Comune. L'auspicio è che comunque si riesca a divenire a una chiarezza di quelle che poi saranno le entrate del Comune e quindi soldi spendibili in modo da poter almeno arrivare a provare un bilancio entro il 30 giugno perché questo consentirebbe appunto di fare scelte politiche importanti e ci consentirebbe anche di continuare ad andare avanti in tutti quei servizi che mettiamo in essere per i nostri cittadini. Dal mantenimento delle strade al verde pubblico alle convenzioni salterebbe un po' tutto? In questo momento sì, la difficoltà è quella perché stiamo lavorando come si suol dire con il costo in dodicesimi che vuol dire che più di quei tot soldi al mese non sono spendibili proprio per la mancata approvazione del bilancio e quindi tutte le azioni collegate non si possono fare. E come vediamo in città ci sono invece tante cose che devono essere fatte alla manutenzione del verde perché siamo nella stagione in cui il taglio dell'erba dovrebbe essere una cosa programmata alla manutenzione delle strade, alla risistemazione poi nel giugno delle scuole per l'apertura del settembre. Queste sono tutte azioni che sono a rischio proprio perché non c'è certezza delle entrate. Grazie Grazie Grazie